Ok. Ma non lo faccio in nessun Paper Mario, quindi... Dubito che lo farò. Più che altro perché ho paura di ricevere consigli non richiesti. Persino dal gioco. Eh? Anche qui c'è una di quelle strane piastrelle? Allora mio fratello sta già piegando questo mondo al suo volere. Pessima notizia! C'era qualcos'altro di qua? No. In quel caso banniamo olivia. Tronco. Colpisci. Oh! Il pugno! Ah! Fu! Ok. Oh, nice! Yeee! Funghi si utilizzano. Mario, questo è un oggetto. Ci tornerò utilissimo nel corso della tua avventura. Puoi controllare gli oggetti che possiedi aprendo il menu con più e selezionando oggetti. Oppure mentre giochi premio Y e seleziono un oggetto e usalo subito. Comodo, vero? Ok. Assenza di musica mi turba. Quanto... Uh! Ok. Nastri. Adesso il menu è tutto... Non ci sono ancora... Notifiche? Cosa vuol dire notifiche? Siamo nel bosco bisbiglio, a quanto pare. Gruppo. Ok. Toad salvati 0%. Strappi strambi riparati 4%. Blocchi colpiti... Oh, man! Ok. Ok! C'è da fare! Ci sarà da fare! Blocchi per... Blocchi colpiti è roba da Mario e Luigi, però. Colpire tutti i blocchi in un'area. Non c'è mai stato qualcosa del genere in Paper Mario. Armi... Accessori... Oggetti... Quanto cura? Non c'è scritto. Un po' di salute. Quindi è tipo un mondo interconnesso, di nuovo. Non c'è una mappa. Un overworld. Wow, potrei ammirare questa vista tutto il giorno. Guarda la cima di quel monte che... Ehi, ma cosa c'è là? Quali sono le mure esterne del castello di Peach, vero? Ho visto i nastri di mio fratello avvolgerlo, sollevarlo a mezz'aria e... Puff! Scomparso! Un momento! Eccolo là! Lo vedi? Lá in cima quella montagna in lontananza è ancora avvolto da tutti quei nastri. Mio fratello potrebbe ancora essere lì insieme a Peach. Chissà cosa starà tramando. Ti fermerò, fratellone! Dopo tutto è a questo che servono le sorelle. A fermare i fratelli? Non ho una sorella, quindi non posso saperlo. Chat, avete esperienze? Siete sorelle o avete sorelle? Oh, a proposito di fratelli. Ho visto un cappello verde cadere dritto nel buco dove prima c'era il castello. Mi spiace davvero tanto. Il cappello verde era parente del tuo cappello rosso, vero? Goddammit. Ti capisco. E chissà come si sentirà tuo fratello. Sono desolata. Potrebbe valere la pena di tornare al punto in cui è caduto per capire meglio cosa può essere successo. Io sono la sorella Z. Confermo, ho una gemella diversa a me. Io ho una sorella a straconta. Non lo so, quello è tutto un altro. Dipende. E già che ci siamo dovremmo anche cercare tuo fratello. Di sicuro starà bene. Però sono lo stesso un po' preoccupata. Quindi ci sarà il parallelismo fra suo fratello e mio fratello. Bizzarro. Ecco, non so se colpire gli alberi per... Vabbè. Vabbè. Oh f***. Pfff. Ahahahahahahahah. Spin! Come la chiamo questa danza? Mario si sfrega le mani. Oh yeee! Hehehehe. Hehehehe. Il bisognino. Ehm... No, il problema è che adesso che... Vabbè immagino che si rilancio ma non toccano niente e posso riassorbire. Ah no? Ok. Forse... L'inventario sembra molto limitato. Tipo sei o sette oggetti. E quando è full verde vuol dire che è pieno. Quando c'è il cerchio verde attorno. Ok, adesso è pieno. E fa il suono. C'è un segreto qui. Ho giocato a Sticker Starman. Ok. Non so quanti segreti aspettarmi. Hehehehe. So che sono ancora nel prologo. Non dovrei fermarmi così tanto ma... Ricarica il salutaggio mostro. Busco bisbiglio. C'è qualcuno. Guarda se non è un Toad sono sorpreso. E chi è? Uno coi baffi. È fatto di carta non ripiegata. Anche i baffi sono di carta. Assomiglia un po' nonno fusto. Nonno fusto. Era fusto o fausto? Mi pare di aver letto fusto. Si sono risate da Toad queste. Vogliono i baffi. Non li avranno. Never. Mi piace che ti danno le monete singole ma una battaglia me ne date 500. Ok queste sono spine. Ok. Deve fare un gran male. Non posso guardare. In ogni caso che ce l'ha messa lì. Posso usare i coriandoli per... No. Però posso fare il giro. Cosa gli hanno fatto di male? Va in giro a martellare così. Oh meh. Non faccio in tempo a leggere tutto. Gli alberi dice. Bel martello. Colpisci cose a caso. Cosa gli hanno fatto di male? Non sono cose a caso. E la miseria. Ok gioco. Pensi che deve fregarmene delle monete singole? In giro a martellare cose. Spero che non gli regalino mai delle piante. Paper Mario è il re dell'inflazione. Uh. Ah ok. Un sacchetto di coriandoli. È strano in vista. È uno di quei cattivoni di carta. Potrebbe. Bel cappello però. Sta solo passeggiando. Magari si è perso. Ma perché parliamo a bassa voce? Per il nome del bosque. E appare. Non so se era voluto l'apparizione in quel momento. Ma. Ci stava. Beh. L'avevo dedotto che quello era il motivo. Però. Sembrano e non sembrano Todd. Nel contempo. Altre spine. Ah. Sono rovi. Lo vedo adesso che sono rovi. Di carta. Lì c'è uno scrigno. Waste. Uh. Cos'è quella roba? Una. È tipo una sfera festa? Sì. Solo che c'è una liana attaccata. Invece del normale filo. Almeno credo. Però sembra inaccessibile per ora. Per ora. Ok. Ok. E... Nice. Ok. Quale di questi? Secondo te se la tira? Fuck you. Fuck you. Mario non se la tira. Per questo che mi piace. Ha trovato la fonte. Facciamogliela vedere. Stavolta ci divertiamo. La fonte. Beh vedo del fumo là eh. È tipo vapore. Capito chat? Non aiutatemi. I sei baffi sono ipnotici. Ma chi crede di prendere in giro? Guardiamolo tutto in pettito. Penso di essere fatto. What? Ok. Uh. Ok. Fogli. Ho seriamente paura che se ci metto troppo mi... Le voci cominciano ad aiutarmi però. Spero di no. Nice. Sì. So che... Uh. So che aspettarmi che questi non siano tode come... Finirei come quando in Mario Odyssey mi aspettavo che il mostro degli abissi nel mondo della serra sarebbe stato qualcosa di fico e invece era solo il T-Rex again. Che è comunque figo ma... Mi aspettavo un mostro diverso. Ok. E questo cos'è? Un barile tipo? Ok. Ok. Beh tiriamo tutto? Rana? Aspetta ha fatto il verso di una... Spero che non gli regalino piante. Ha fatto il verso di una rana quando ho tirato. Quello è chiaramente quello per proseguire, no? Ok. Oh. È triste. Un fiore di fuoco un po' appassito gli servirà dell'acqua? Ah, è un oggetto chiave! Ma serve dell'acqua ai fiori di fuoco? Non è un controsenso. Ecco, questo è il tipo di lentezza che ho potuto aspettarmi da... Aspettarvi da me, by the way. Sto sopporando il momento prima che rivelano che sono Toad. Che va comunque bene perché mi sono divertito, però... Ok. Ok. Tu chi sei? Corvo. Ok. Un sacco di graccidi, diverse. E le foglie... Beh posso buttarmi dalle foglie ma poi non posso tornare indietro, quindi... Beh, venite fuori, spiriti! What? Oh. Ok. Ok. Ok! Ma che cacchio! Ok, la fonte risana le cose, ma perchè... perchè è uno stereo? Cos'è adesso? Struzzi! Cosa le era successo? Ehi, Struzzi... è la sua operazione a caso del gioco! Goodbye nel caso! Certo che ne succedono di cose strane qui! Già! Lo stereo era di Sticker Star! Quindi tornano gli oggetti reali? Pensavo di no a sto giro, ma magari sì! Magari ha di nuovo come evocazione! Ok, c'è il tronco per salire adesso! Ok, il tronco sembra progresso, quindi fa che mi butto dove ci sono le foglie adesso, e voglio vedere cosa... cosa posso fare qui! Sono cadute delle foglie! Ah, e di qua dove si va? Ah, e di qua si torna indietro! Ah no! Ok, potevo risalire, devo solo rifare il giro, mi sa! Ehm... ok! Ah, e... e memory? Ok! Ehm... no! Ops! Magari la prossima volta! Memory... ok! Cuore... sacchettino! Memory con le foglie! Peccato! Tombola! Ding, ding! 10 monete! Ok! Risposta sbagliata! No, signore! Ai, ai, ai! 100 monete! Oh, God! se fallisco un tot di volte! Ah, vabbè! Ups! Ai, ai! Magari la prossima volta! Impeccabile! Wow! Niente male! Questo è un fungo triste! Fungo rinsacchito! Ok! Tombola! Chissà se... se quella fonte può risanare anche gli origami! Cuore, cuore! Meccato! Meccato! Wow! E... 100 monete! Ok! Wow! Uh! Um! Oh! Uh! Oh, shit! Ehm... quando la tocco sono invincibile, quindi... Ah, devo usarla bene! Oh, fuck! Ehm... ok! Usala bene! Usala bene! Usala bene! Non sprecare! Non sprecare! Non sprecare! Non sprecare! Che stella! Oh! 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 Davvero! Sprecoci che... Ok! Tesori da collezione! Castello di Peach! Ok! Bello è sto tema! Ascoltiamolo un attimo! Stelle c'erano in Sticker Star! E in Super Mario RPG! Nice! Ok! Mi resta un po' di stella! Dove lo posso usare? C'erano altre spine, ma non mi pareva che mi impedivano d'andare... Le aggiravo e basta, no? Ah, penso di essere a posto! Un tesoro da collezione! Oh! Guarda che carino! Dovresti provare a collezionarne un po', sai Mario? Anche perché... anzi, perché non provo a trovarli tutti? Lo farò probabilmente! L'hanno preso da Odyssey, questi dèi, immagino... E' abbagliante! E' meraviglioso! Non è male, devo ammetterlo! E' inarrestabile! Bene, bene, niente male! Ehi, è bravino! Fuck! Vabbè! Sì, non mi pareva di aver visto altra roba! Borgo Todd per vedere tutti i tuoi tesori da collezione! Ok! Ma non sono tutti morti a Borgo Todd? Uh! Bane! Diamo un'occhiata a sti tesori! Sotto cosa sono? Ah! Non qui! Mi sa che devo davvero andare tipo al museo! Todd, salvati! Zero per cento! Cimitero, Todd! Guarda, faccio una predizione! Secondo me, Olly odia i Todd perché uno gli ha fatto uno sgambetto quando ero piccolo! E poi questo gli ha fatto realizzare che non aveva i piedi e si è offeso! Questa è la storia, secondo me! Sarebbe plausibile! Sì, questa è una sfera festa, quindi! Anche se... Saranno solo tanti coriandoli? Beh, sicuro usciranno anche coriandoli, ma... Ci sarà anche qualcos'altro dentro! L'interessante è cercare di prevedere cosa! Saranno i sussurratori? Nah! Magari ce ne sono diverse in giro per il mondo! Ed è solo un modo per darmi tanti... Tipo una sfera festa mi riempie il sacco! Hello! È tipo un modo per ridarmi tanti cariandoli perché serviranno per non so cosa! Oh! Opsi! Lo sapevo! Ah, quindi era solo... Ok! E se gli do una botta! Uh! Salve! Una botta più grande! Ok! Ok! Oh! E c'è qualcos'altro dentro! Non ce n'erano neanche tanti! Come on! Era tristissimo! Ok! Immagino che ce ne saranno altre nel gioco! Che cos'è? Seme rinsacchito! Seme del frutto d'oro! Sembra un po' secco! Si potrà reidratare! Ok! Tutta roba da reidratare alla fonte! E il seme sarà l'ultimo! Perché voglio vedere cosa fa! Scusate! Ok! Questo sembra un palcoscenico! Skull Kid confermato! Che tono strano che ha a sto posto però! Allora! Praticamente un uomo entra in un calzino! E dice Che puzza! Beh proviamo a lanciare i coriandli! Ah! No eh! Sembra qualcosa per dopo! Tipo Qua sopra si esporrà qualcosa! Li spreca effettivamente fare così? Sembra di no! Se li lanci a caso e non vengono usati davvero! Ok! Puoi sprecare nei guanti ne vuoi! Posso magari dare un colpo a questo e girarlo? No eh! Pensavo che magari il perno faceva da... Perché sembra un palo da piantare dentro però... Non... Non vedo roba degli artimani quindi... Ricordo di non darmi aiuti! No! Ok! Oh! Ah uno di quei boschi! Ok! Quindi devo risolvere il problema! Se ce n'è uno effettivamente! Mi stanno dando tanti coriandoli! E' che... Vedo delle cose qui ma... No se non so... Vabbè! E continuiamo! Ah ma... Non sembra anche a te che siamo finiti in un circolo vizioso? A volte quando le cose sembrano senza soluzione mi prendo una pausa per mettere ordine nei miei pensieri Sì mi piace sedermi su qualche superficie bella piatta Possibilmente ben illuminata Tipo quel ceppo! Ok! Ah quindi era obbligatorio! Ok! Credo! Ehi! Chi va là? Salve! Oh! Lady albera? Ah! Gli alberi! Con la faccia! Come osi sederti sulla testa di nonno fusto? Non farmi inalberare! Già! E' il venerabile anziano del bosco! Mostra un po' di rispetto! Aramoscelli più vecchi di te! Poco importa che quegli odiosi piccoli Todd l'abbiano ridotto in questo stato Nel nostro bosco il legno grosso è ancora lui! Salve! Oh! Eccolo nonno fusto! Proprio così! Grazie a tutti per aver avuto la corteccia di difendermi! Fuck Drago by the way! Non so nemmeno chi è però vabbè Alzheimer! Ehi tu Virgulto torna dai tuoi amici di carta e di loro in che stato mi hanno ridotto! I Todd sono negativi in sto gioco! Eh! Ho malapena e la forza per parlare! Ma è quel tanto che mi basta per insegnarti un po' di buone maniere! Proprio così di N4 nonno fusto divieto l'accesso ai Todd! Da quando l'hanno tagliato nonno fusto è un po' abbattuto! Ok forse è troppo pesante lo script di sto gioco per me! Non mi ricordavo così tante battute negli scorsi! Però dite a Drago di comprare il gioco perché ha fatto per lui tipo... Ecco perché ce l'ha con voi! Questi esseri di carta che tagliano alberi nel fiore dei loro anni! È una vergogna! A proposito baffetto tu non te ne andrai via... Tu ne andrai fin quando nonno fusto non ti avrà dato il permesso! Quindi mettiti pure comodo perché ci faremo compagnia per sempre! Per sempre? Sembra parecchio tempo! Signor fusto noi non siamo proprio come quei cose che ti hanno ridotto così! Eh già non siamo Todd! Confermo non ho funghi in testa! Guardami io sono un origami! Eh hai detto origami? I miei occhi non sono più quelli di una volta! Beh allora suppon che voi altri potreste anche essermi di aiuto! Non so questi non contano come personaggi originali! Lo sono in teoria! Alberi con la faccia! Se troverete il modo di farmi recuperare tutta la mia energia allora potrei anche lasciarvi andare! Beh possiamo buttarti nel lago? Ma la vedo dura a trascinarti fino a là! Apprezziamo molto la tua gentilezza ma non sappiamo bene come farti recuperare la tua energia! Ma non importa anche se siamo di fretta faremo comunque del nostro meglio! Se volete aiutare nonno fusto allora vi lasceremo girovagare per il bosco! Ok! Thanks! Prego ragazzi adesso potete procedere a esplorare il monte! Ma non vi gingillate troppo d'accordo? Dopo tutto quello che dovete fare è recuperare il semer invigorente! Pare che sia l'unico modo per restituire nonno fusto la sua energia! Buona fortuna! Ok sorelle albero! Grazie.